Benvenuti a Discovery Prata. Oggi, cari amici, scopriremo il mondo degli orsi del chispios. Ecco, guardate con che abilità riescono ad afferrare al volo le loro prede. Poi, quando sono sazi e hanno sete, molta sete, guardate cosa accade. È incredibile. Anche gli orsi del chispios preferiscono la naturale leggerezza di acqua Prata. Acqua Prata. E alla prossima puntata.